faremo il naso è vero l'escrizione allora quindi ripetiamo l'occhio ctrl p è il vertice chiamabile ctrl p e vediamo posso fare questo l'artice ctrl p cerco la voce clicco quando sono scoperto ok e non riesce a muovere ok prossimo passaggio facciamo la nostra geometria quindi perfetto e la estrudo ora ragazzi adesso fare questo occhio ok e comandi sì aspetto s no abbiamo ancora il problema riscalandolo riscaldolo dal centro di questo aspetto ora ora il metodo barbaro scalarlo ma che si può vedere poi scontare il punto ok ok metodo ok e verificare clipping ok per ok 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 queste tre ok fra le due a siamo un vincitore poi dopo è una figata ah quando sono è un è giusto Grazie 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 Galo Anche se Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Andremo a selezionare il cino che sarà il nostro vertice e andremo su Select More and Less More. Non fatelo adesso. In modo da avere l'intera selezione del becco e dopo faremo Assegna. Ok? Se ne abbiamo tante, questo è molto comodo. Ok? Quindi? Grazie a tutti. 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 Ok, posso farcela. Fatti. Ecco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.